Amici di Contrasto TV, all'Apple Store del centro commerciale Campania arriva l'iPhone 6S Amici di Contrasto TV, all'Apple Store del centro commerciale Campania Cosa ti hanno spiegato questi dell'Apple Store? Molte cose io mi ho spiegato, tipo il Touch 3D Il Multi Touch, il Touch 3D Oggi è uscito l'iPhone 6S, qual'è la differenza dagli altri iPhone? Non lo so, l'idea lui Tu ho visto che hai un Samsung, come mai hai fatto questa scelta contro tendenza? No, mi trovo bene Ma per cambiare la fotocamera, da 8 a 12 megapixel L'apertura di pixel da 1,5 a 1,21 Quindi cosa consigli, un iPhone o un Samsung? Un iPhone 3 Modena Perdono